Santa Marina Alta, borgo all'interno della cornice del Parco Naturale del San Bartolo, è un paese che si riscopre. Da alcuni mesi infatti un comitato di abitanti affezionati del luogo si sta riunendo per organizzare iniziative che valorizzino e facciano riscoprire le bellezze e le unicità di questo piccolo gruppo di case a strapiombo sul mare. Dopo una mostra fotografica e una serata sotto le stelle avvenuta nei mesi scorsi, lunedì 28 agosto è stato il turno di una cena che ha visto coinvolti tutti gli abitanti del paese, non solo nel ruolo di commensali ma di veri e propri partecipanti nell'allestimento e realizzazione dell'evento. 26 famiglie, 110 persone, nessun catering o service, niente piatti, posate, bicchieri o tovagli usa e getta. La cena, ribattezzata dei lumi in omaggio agli antichi fuochi che in passato venivano accesi sulle alture del San Bartolo per guidare le imbarcazioni, ha avuto come pensiero cardine quello della condivisione e della partecipazione attiva, oltre a quello del rispetto per l'ambiente, punto fondamentale per una comunità che vive all'interno di un parco naturale. Tavoli e sedie sono stati presi in prestito dai ristoranti e dai residenti all'interno del borgo e poi ricoperti da una moltitudine colorata di tovaglie, piatti e stoviglie portate da ogni singola famiglia. Assieme alle brocche con cui rifornirsi d'acqua da distributori comuni o del vino portato da ogni singolo nucleo familiare assieme a contorni e dolci. Il menù principale della serata all'insegna di piatti della tradizione è stato curato dai tre ristoranti del paese che si sono offerti di cucinare gratuitamente gli ingredienti comprati con una spesa comune. Dal ristorante da Gennaro è arrivato il primo, tagliatelle con ragù come una volta frutto di ben 120 uova, l'agriturismo punta degli schiavi ha preparato la sua rinomata pasticciata piatto tipico pesarese a base di carne e aromi mentre il circolo d'Arcimboldo si è occupato del coniglio in porchetta, ricetta ben consolidata e affidata della zona. La cena inizialmente prevista lungo la via centrale del paese a causa del forte vento si è spostata nei locali della ex scuola elementare che da alcuni anni è stata restaurata e ospita un centrovisite del parco, soluzione un po' meno pittoresca ma che ha ulteriormente rafforzato lo spirito di unità e commensalità di un paese fatto di tante anime diverse. Un paese che ha puntato sul contributo ai talenti di ogni suo singolo abitante per riscoprirsi e valorizzarsi con l'obiettivo di aprirsi e coinvolgere sempre di più anche i tanti visitatori e frequentatori del San Bartolo. Non un unicum quindi questa cena dei lumi di Santa Marina Alta che vuole invece diventare un appuntamento fisso di ogni estate, ampliarsi e aprirsi sempre di più al resto della cittadinanza e agli affezionati di questo piccolo gioiello che vuole tornare a brillare.